Buonasera dallo Sbordone League, New Team FC Franco finisce con uno straordinario pareggio, partita pilotecnica, c'è la commenta Enzo Yavazio un migliore in campo. È stato un ottimo partito, New Team è un'ottima squadra anche se aveva elementi nuovi rispetto alla sua squadra, è stato un pareggio giusto. È stato un pareggio giusto, Yavazio ha fatto uno splendido gol ma ci dovrà raccontare e spiegare perché ha ingaggiato questo ragazzo per fare un montaggio video tutto personale. Questa idea a cosa è dovuta? A nulla, è un montaggio video così. Tuo personale? Sì. Quindi con i tuoi gol? No, con i miei gol. Diciamo è un montaggio video... Nella tua vita? Sì. Cioè questo ragazzo ti riprende anche... Sì, per ora sì, per oggi è stata una partita di calcio, poi si vede. Un po' che ti riprende, anche le questioni intime magari... No, questa parte la passiamo pure da dire. Alla Sbordone League è tutto, un applauso a Enzo Yavazio, un saluto a tutta la squadra. Un saluto a tutti i miei amici di classe, una quinta D e uno specialmente a Davide Lago. A chi dedichi questa vittoria? Questa vittoria la dedico al cinese. Sì, questa vittoria a nessuno che non hai vinto e pareggiato. Il mio gol la dedico al cinese. Un applauso a Enzo Yavazio.